Leggere e leggere è una libreria indipendente, quindi siamo liberi come librai di scegliere i libri e i giocattoli che crediamo giusto proporre. Questo è diverso rispetto a tante librerie che magari sono in franchising, quindi hanno una linea dettata dalla casa madre. A noi piaceva poter proporre quello che ci piace e che crediamo bello fare conoscere ai bambini e ai ragazzi di Castel Maggiore e dintorni.